La felicità è quando torno a casa e c'è tutta la mia famiglia che mi aspetta. La mia famiglia. E stare con le persone che amo. Per me è stare vicino alle persone che ti rendono speciali e stare vicino alle persone che vuoi bene, veramente. Soldi. Ci sono persone che sono felici se mangiano, ci sono persone che sono felici se mangiano bene. Secondo me la generazione si è un po' rovinata, quindi non credo ci siano così tantissimi valori. Cioè preferisco la generazione più vecchia a questa. Sono divertenti, hanno tanti sogni nel cassetto e sperano di riuscire a costruire un futuro per i loro figli. I ragazzi pensano in un'altra forma. Perché è una generazione comunque troppo libera, con troppa tecnologia, troppe cose che comunque sono delle volte pericolose. Che giovani sono quelli più innamorati? La fantasia. Siamo troppo giovani perché è del mondo. La parte è bene e la parte è male. Cioè nel senso sono... Siamo un po' associali. Sono pochi quelli che possono. Dipende da noi stessi. Il mio futuro lo immagino pieno di senerità e gioia e salute. Sicuramente più matura, più responsabile, più seria soprattutto. Cioè di avere un lavoro, abitare da sola. Un barbiere con i figli e una moglie. Con una famiglia. Secondo me se uno nasce in Italia potrebbe anche essere italiano, però deve anche essere riconosciuto come egiziano, se no dal suo paese di origine. Secondo me sì, perché essendo nato qua comunque sul terreno italiano dovrebbe avere la cittadinanza italiana. Se fossi io che sono nato in un altro paese e vengo in Italia, io sono fiero di essere nato in quel paese dove sono nato. Metà metà. Non sei il tuo pesce della terra, ma è la terra che esce l'età. Solo voglio entrare all'isimo promete, che se la cosa se va al carajo, lo te vas a dejar coger.